Musica Un cordiale saluto, ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori di Fano TV primo luglio 2015 per la resegna stampa si comincia alle 7.30 in diretta come sempre con il calendario, poi le previsioni del tempo e i giornali oggi la chiesa cattolica festeggia, ricorda il preziosissimo sangue di Gesù il sole è sorto alle 5.29 e tramonterà alle 20.55 il tempo, ecco questa immagine bella, pulita, guardate una cartolina quella del nostro osservatorio, 19 gradi e 4 la temperatura che ovviamente è destinata a salire notevolmente per tutto il corso della giornata arriverà a 30-32 gradi oggi avremo infatti cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento il mare sarà quasi calmo domani giovedì 2 luglio ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature in ulteriore aumento venerdì 3 luglio cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazione di rilievo abbiamo detto che avremo ancora tempo stabile soleggiato sulle Marche almeno fino alla metà della prossima settimana con temperature in ulteriore aumento specie dalla giornata di domenica cominciamo a leggere i giornali, il resto del carlino apre con la corte malatestiana che non sarà più come prima, guardate com'era e guardate come sarà tornerà così con questi giardini un po' come avrà questo cortile che ridiventerà appunto un giardino come ai vecchi tempi i concerti saranno invece spostati al Sant'Arcangelo finisce un'epoca quando venne creata infatti questa corte malatestiana per gli spettacoli, la musica, la danza e quant'altro il teatro della fortuna era chiuso perché inagibile poi sempre sul resto del carlino la cronaca con questo marinaio stalker che è stato arrestato appena è sbarcato dalla sua imbarcazione l'altra mattina alle 7 appena il Pieschereccio è attraccato al porto i militari della stazione Carabinieri di Fano lo hanno arrestato e lo hanno portato nella sua casa è una storia che vede questa denuncia da parte della compagna una donna fanese di 51 anni un'impiegata fanese che è stata gonfiata di botte così scrive il giornale da questo 44enne marinaio andiamo sull'altra pagina del carlino ciclabile per marotta e riqualificazione il sindaco Massimo Serra illustra le linee guida della sua amministrazione per i prossimi 4 anni in questa intervista il primo cittadino di Fano si dice determinato a portare avanti il progetto della fusione di Aset come già annunciato ci sarà una verifica a novembre e poi parla del settimo assessore così come la distribuzione delle deleghe pensa ad una ridistribuzione infatti il sindaco di Fano perché? perché c'è una mole di lavoro importante da fare distribuita solo su sei figure, sei assessori che però non consente, dice Seri, di essere sempre rapidi su tutto e quindi probabilmente arriverà anche questo settimo assessore mentre il sindaco di Mondavio Talè che è stato eletto consigliere regionale con il Partito Democratico lascia, la prossima settimana lascia la carica di sindaco della cittadina appunto di Mondavio in vista anche a una ridistribuzione delle deleghe degli assessori la settimana prossima il Consiglio Comunale sancirà la decadenza e ancora dal resto del carino Borgo Pace un migrante ogni 12,5 abitanti solo a Fano la proporzione di 1 a 1842 riflessioni dal sindaco Pierantoni che dice e che chiede soprattutto aiuto al presidente della regione Marche Luca Ceriscioli Tavuglia travolto da un'auto gravissimo un bambino di 5 anni era sfuggito ai nonni portato in eleambulanza all'ospedale Salesi di Ancona un volo di 12 metri le ciabattine del piccolo sono state ritrovate distanti era in costume da bagno e ha riportato traumi plurimi è stato investito intorno alle 18 sulla strada per San Giovanni nell'ultimo tratto di centro abitato apriamo adesso il Corriere Adriatico andiamo a Pesaro soste multe lungomare ad alta tensione veicoli sanzionati rimosse in Viale Trieste l'osservatore parla di amministratori cinici ed incapaci una bulimia di eventi privi di regia che rischiano di squalificare l'offerta turistica della città e adesso la Notte Rosa l'apertura dei Salli il Docu Festival e il Meeting Pot di Rocca Costanza insomma tutte prove per la Polizia Municipale evidentemente che gestisce a Pesaro poi anche la viabilità le soste, le multe e quant'altro sempre da Pesaro torna il sostegno di carta famiglia agevolazioni e sconti in negozi farmacie e servizi per più di 500 nuclei familiari con disagio lavorativo poi da Fano invece il giallo il giallo sulla vicenda della Rincicotti Orciani la rinuncia all'arbitrato De Leo in audizione ribadisce di non conoscere le ragioni dell'incredibile decisione poi stagione all'Arena BCC 24 spettacoli tra risate, musica e vernacolo consegnato il premio della sfida tra comici a Tosoni e Mancinelli l'altra pagina del Corriere Adriatico di Fano bilancio bloccato lo spettro delle modifiche negli oltre mille emendamenti dell'opposizione confuse le spese in conto capitale con quelle correnti poi ancora da Fano e Valle del Cesano siamo sulla pagina di Mondolfo il sindaco spera di aver convinto Tagliolini ieri l'incontro con il Presidente a proposito della variante al PTC per la realizzazione dell'outlet da Senigallia invece estate boom apre un nuovo parcheggio l'area reperita alle saline vicino alla pista di patinaggio raddoppia l'isola pedonale sul lungomare e adesso il messaggero notte rosa viabilità blindata il sindaco invita tutti a muoversi in bicicletta saranno potenziati i passaggi di treni e bus la riviera è pronta l'evento dell'estate in città uno spettacolo ogni quarto d'ora ex AMGA nessun accordo sui rifiuti da far sparire depositata la sentenza con cui il giudice esclude l'esistenza di un gruppo organizzato nelle motivazioni emerge comunque come si volesse far ricadere la responsabilità sul comune a centro pagina anche una notizia una foto notizia che riguarda lo sport il basket in particolare è possibile un clamoroso ritorno alla consult invest VL e Trasolini ritorno di fiamma potrebbero incrociarsi di nuovo le strade della VL consult invest e di Mark Trasolini l'italo canadese ex biancorosso l'anno scorso ad Avellino poi la politica con i lavori per il consiglio regionale sapete che ancora sono in corso consultazioni vertici come quello tra Ceriscioli come Busilacchi per le presidenze a Volpini la commissione sanità Renato Ilfanese Minardi invece potrebbe andare alla commissione bilancio e cultura poi sempre più sotto per quanto riguarda la regione PD Comi offre posti al gruppo Ceriscioli ma il governatore punta su Lucerini già in autunno Notte rosa in bicicletta dall'alba al tramonto riunione come dicevamo per definire le strategie della mobilità non solo Zingaretti a Pesaro venerdì per il capodanno dell'estate ogni quarto d'ora sono previste iniziative tra il centro ed il mare poi si parla delle rimozioni delle automobili in Viale Trieste giudicate eccessive dall'osservatorio enti locali e il caso multe sul lungomare errori burocratici e scelte irrazionali dei vigili urbani da oggi a Pesaro poi tra l'altro il sole è assicurato vacanza gratis se piove troppo ma pericolo scongiurato almeno per le prossime settimane delitto Ferri invece a sparare erano due killer spunta l'ipotesi di due armi e due killer che avrebbero ucciso Andrea Ferri la notte del 3 giugno del 2013 l'udienza di ieri è stata molto tecnica con una battaglia sulle traduzioni delle intercettazioni effettuate in carcere sono stati ascoltati i consulenti della difesa e del PM nell'ambito del processo che vede Donald Sabanov accusato di concorso in omicidio assieme a Karim Berry entrambi erano in aula e l'assise era presieduta da Stefano Marinelli e ci sono frasi sulle quali ci si sono un attimo soffermati su queste frasi registrate in carcere quando ho aperto lo sportello l'ho preso per la gola e l'ho buttato a terra poi andiamo sull'altra pagina del messaggero caso provincia salvi i posti di lavoro ma le paghe sono a rischio Domenicucci qui non abbiamo neanche un esubero ma senza fondi stipendi garantiti solo fino alla fine dell'anno poi un po' di notizie di cronaca che abbiamo in parte già visto bimbo investito a Tavuglia che è in reanimazione a Sasso Feltrio una ragazza che litiga con il suo fidanzato e assali i carabinieri poi un altro caso invece a Cagli dove un uomo va al fiume e i ladri gli danneggiano l'auto per rovistare e sperare di trovare qualcosa di valore all'interno dell'abitacolo siamo sulla pagina di Fano per chiudere del messaggero perseguitata e picchiata arrestato l'ex marito manesco ai domiciliari un marinaio accusato di maltrattamenti la vittima che ha dovuto ricorrere più volte le cure mediche ha chiesto aiuto ai carabinieri di Fano poi prove di forza alla maratona sul bilancio l'opposizione ha presentato emendamenti fiume botta e risposta tra Dan e Minardi sul doppio ruolo di presidente del consiglio comunale e consigliere regionale Dan poi ha chiesto come avrete sentito anche nel nostro notiziario di ieri ma l'altra notizia la troverete anche sugli altri quotidiani questa mattina ha chiesto a Minardi gratuitamente di rimanere presidente del consiglio per risparmiare un po' di soldini poi però Minardi ha detto io preferisco stare in regione perché già richiede molto tempo e quindi ho un mandato da parte degli elettori che io devo rispettare questo è tutto grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa ci rivediamo domani mattina come sempre alle 7.30 stasera invece occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.